Desidero fare una riflessione Poi spiegherò il perché di questa riflessione che sto andando a fare per ora, dico solo che la considero un punto di partenza strategico per la comprensione dei passi successivi. Il brano che abbiamo appena letto ci dice che il verbo, il Logos, era in principio presso Dio e che tutto fu fatto per mezzo di Lui. Il concilio di Nicea poi ci ha portati alla comprensione che questo principio del Logos non era inteso semplicemente come al principio della creazione, ma che era da prima di tutte le cose, era da sempre, dall'eternità. Il concilio in sostanza ci ha aperte le porte dell'eternità della Trinità, ci ha fatti passare dalla Trinità economica, ossia la Trinità che si è svelata in maniera eccellente dal principio fino all'incarnazione del Figlio, per operare sulla terra per la salvezza dell'uomo e per rivelarci Dio come Padre, ecco come dicevo, il concilio ci ha accompagnati alla Trinità trascendente, dove il verbo è di fronte al Padre dall'eternità. Non ci fu un momento in cui il verbo non fosse stato. Quando Dio parlò a Mosè disse io sono colui che sono, è il Padre che dice io sono colui che sono, è il Figlio che dice io sono colui che sono, è lo Spirito che dice io sono colui che sono. Io sono, non io ero o io sarò, ma io sono, io sono l'Eterno presente, tre persone in un'unica sostanza. Stiamo entrando, per quanto ci è possibile, con spirito di adorazione, umiltà e timor di Dio, dentro la Trinità teologica trascendente. Ebbene, troviamo il Padre che dall'eternità ha generato il Figlio, dando a Lui tutto tranne l'essere Padre. E il Padre e il Figlio, dall'eternità, fanno procedere lo Spirito Santo, Spirito dell'amore tra il Padre e il Figlio. Ma diamo bene, è lo Spirito che procede, non che precede, ma che procede dal Padre e dal Figlio. Il Padre, l'ingenerato e il Figlio, generato, Logos, parola, verità. Da essi procede, e ripeto, non precede, ma procede lo Spirito d'amore. Quindi, in termini logici, nelle operazioni divine, il Logos, la verità, precede l'amore. L'amore passa attraverso il vaglio della verità, perché il vero amore è solo nella verità, procede dalla verità. In altre parole, l'amore è tale solo se è vero. Certamente questo è valido in termini logici, in quanto, essendo Dio dall'eternità, non c'è un momento che ci sia stata la verità e non l'amore, o viceversa, ma sono ambedue da sempre, da sempre l'amore nella verità. E abbiamo una conferma certa, nella parte introduttiva dell'enciclica Caritas in Veritate, di Benedetto XVI, il quale, al numero 1, scrive Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta. La verità è luce che dà senso e valore alla carità. Poi prosegue ancora al numero 3 Bellissime queste parole e credo che a questo punto sia chiara l'idea della radicalità della verità. Senza verità non c'è amore, perché non è vero amore. La verità è essenziale affinché l'amore sia vero amore. Quindi Dio è amore, ma l'amore non è Dio. Prendo questa citazione dal professor Rubiali, che tiene la cattedra di teologia dei sacramenti a Milano. Sì, perché Dio è certamente amore, ma non solo. Dio è verità, giustizia e misericordia. Sì, perché Dio è vero, giusto e misericordioso. Dio è colui che è, in Lui non c'è mutamento alcuno. Dio, che è amore, è sempre e da sempre contemporaneamente vero, giusto e misericordioso. In ogni sua azione e decisione c'è sempre la verità, la giustizia e la misericordia. Verità, giustizia e misericordia, queste tre operazioni non possono essere disgiunte, operano sempre insieme. E quindi prendiamo un esempio pratico. Il purgatorio è un atto di giustizia perché Dio punisce i peccati dell'uomo, li punisce perché sono fuori dalla verità. Ma il purgatorio non è solo giustizia e verità. Possiamo notare che questo atto di giustizia di Dio, che è il purgatorio, è anche contemporaneamente misericordia, perché il fine ultimo del purgatorio è scontare la pena affinché l'anima si salvi. Senza questo atto di giustizia l'uomo non potrebbe entrare nel regno di Dio e la misericordia, che è perdono, richiede la necessaria giustizia affinché l'uomo si possa salvare. Quanto è profonda e incalcolabile è la sapienza di Dio. Riesce a trarre del bene dal male, a trarre la salvezza attraverso la sofferenza. Bene, tutte queste considerazioni ci portano a concludere che, se la verità è imprescindibile per la salvezza, difendere la verità è una condizione irrinunciabile. Infatti Benedetto XVI ci viene in aiuto, sempre con l'enciclica Caritas in Veritate, dove, sempre al numero uno, scrive «Ciascuno trova il suo bene aderendo al progetto che Dio ha su di lui per realizzarlo in pienezza. In tale progetto, infatti, egli trova la sua verità, ed è aderendo a tale verità che egli diventa libero. Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità». Sottolineo quest'ultima frase, la ripeto, «Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità». Ecco, Papa Benedetto ci fa conoscere quanto l'atto di difendere la verità sia un atto esigente, sottolineo esigente, di amore. Dice molto bene il Papa Emerito, «Difendere la verità è un atto insostituibile di carità. L'uomo nella verità diventa libero, infatti difendere la verità significa portare l'uomo ad essere veramente libero e quindi salvo. Nel mio immaginario vedo la verità come una fonte di acqua viva che sgorga dalla montagna e che alimenta una diga. Vedo l'acqua raccolta nella diga come la dottrina della Chiesa, quale ricchezza che attinge dalla fonte della verità. Immagino questa diga che è la Chiesa, che viene aperta per portare a valle alla gente la sana dottrina, per dissetarla nella verità, per portare l'infinito al finito, all'uomo, per portare all'uomo la possibilità di salvezza. Con questo povero esempio ho inteso evidenziare quale rapporto strettissimo ci sia tra verità e dottrina della Chiesa, per cui ritengo che difendere la dottrina è difendere la verità. Parlavamo prima di queste tre parole, verità, giustizia e misericordia. Oggi purtroppo spesso accade di vedere disgiunta la misericordia dalla verità e dalla giustizia. O viene anteposta o contrapposta ad esse, come se la comprensione, la condivisione, l'accoglienza, la sollecitudine per l'uomo fossero separabili dall'osservanza della dottrina, o addirittura fossero incompatibili o antitetici. L'errore di anteporre la misericordia alla verità, l'amore alla dottrina e al dogma, nasce dal disconoscere il logos verità come principio di ogni cosa, ma in principio, come abbiamo sentito nel prologo giovanneo, era il logos, non l'amore. Ora vengo al motivo di questa mia riflessione. Considerando l'atto di difendere la verità, un atto preeminente di carità, ho pensato che, pur nella mia pochezza, di produrre alcune registrazioni su argomenti che accadono oggi e che, secondo me, meritano una evidenziazione alla luce della verità, di quella verità che ci salva e che ci rende liberi. Certamente a causa della mia inadeguatezza, non so quanto possa essere utile e proficuo questo lavoro. Io ci provo. Lo sento dentro di me come un dovere, un desiderio e un piacere. Ammetto e metto in preventivo che si possa non essere d'accordo con i contenuti della mia riflessione. Quello che io spero è una condivisione che sicuramente potrà essere un arricchimento per tutti noi, anche se fossero pensieri incontrare o quanto sostengo. Ognuno deve sentirsi libero di esprimere ciò che vuole e, nello stesso tempo, nessuno deve sentirsi obbligato ad intervenire. L'obiettivo è di crescere insieme in amicizia, nella verità. Dirò spesso anche cose già conosciute, ma non importa, ripetere spesso fa bene. A Dio, piacendo e dato che nelle riflessioni inevitabilmente porrò dei giudizi, la prossima registrazione la vorrei fare sul giudizio per cercare di comprendere se e fino a che punto è possibile giudicare.